Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi e Costantino Indelicato. Dall'abisso del tempo, di H.P. Lovecraft, in collaborazione con Hazel Hild. Lettura di libri in pillole, illustrazione di Tiziana Romano. Capitolo secondo. Il mistero si trascinò per cinquant'anni dopo l'installazione della mummia nel museo. La ghiacciante reperto si conquistò una certa notorietà fra i bostoniani colti, ma non altro. Mentre dopo un decennio di infruttuose ricerche, l'esistenza del cilindro e del rotolo con i geroglifici fu virtualmente dimenticata. Il museo Cabot era così pacifico e austero che nessun giornalista o scrittore divulgativo pensò di oltrepassarne i sedati cancelli in cerca di curiosità per le masse. L'invasione degli irresponsabili si scatenò nella primavera 1931, quando un acquisto piuttosto spettacolare, quello dei bizzarri oggetti e dei cadaveri inspiegabilmente conservati, che erano stati rinvenuti nelle cripte in rovina di Chateau Fosflamme, edificio tristemente famoso e cadente nella regione francese di Avroagne, portò il museo all'attenzione dei giornalisti. Fedele alla sua politica scandalistica, il Boston Pillar inviò un collaboratore del supplemento domenicale per ricostruire il fatto e rimpolparlo con una storia generale ed esagerata di tutto il museo. Questo giovanotto di nome Stuart Reynolds si convinse che la mummia senza nome fosse molto più adatta a suscitare sensazione che i recenti acquisti del museo, i quali costituivano il principale scopo della sua visita. Una verniciata di dottrine teosofiche, una certa passione per le teorie di scrittori come il colonnello Churchward e Lewis Spence a proposito di continenti perduti e civiltà dimenticate, rendevano Reynolds particolarmente sensibile verso una reliquia dell'immemore passato come era la mummia. Al museo il cronista si rese odioso con un'infinita serie di domande non sempre intelligenti e con la richiesta di rimuovere dalle bacheche gli oggetti che vi erano custoditi per poterli fotografare da angoli insoliti. Nella biblioteca che si trovava nel seminterrato, ponzò per lunghissimo tempo sul bizzarro cilindro e il rotolo membranoso, fotografandoli da tutte le parti e assicurandosi di aver immortalato ogni frammento dei fantastici glifi. Chiese poi di vedere tutti i libri che avevano a che fare con l'argomento delle culture primitive e dei continenti sommersi. Per tre ore rimase seduto a prender note e se ne andò solo per potersi affrettare a Cambridge, dove se gliene avessero dato il permesso, intendeva dare un'occhiata al temuto e proibito Necronomicon custodito nella Widener Library. Il 5 aprile l'edizione domenicale del Pillar pubblicò l'articolo completo di fotografie della mummia, del cilindro e del rotolo con i geroglifici. Il tutto nello stile tipicamente infantile e affettato che quella testata predilige per il bene di una clientela vasta e intellettualmente immatura. Pieno di errori, esagerazioni e sensazionalismo, era precisamente il pezzo che stimola la curiosità degli scriteriati e suscita l'interesse dell'orda. Come risultato, il museo un tempo tranquillo fu invaso da folle vocianti e dallo sguardo perso nel vuoto che i suoi austeri corridoi non avevano mai contemplato. Ma nonostante la puerilità dell'articolo, non mancarono i visitatori preparati e intelligenti. Le immagini parlavano da sole e molte persone educate sfogliano a volte il Pillar per caso. Ricordo un personaggio molto strano che arrivò nel mese di novembre, un uomo di carnagione scura che portava il turbante e una folta barba. Si esprimeva con voce faticosa e innaturale e aveva una faccia incredibilmente inespressiva e goffe mani nascoste da assurdi guanti bianchi. Costui fornì un povero indirizzo del West End e dichiarò di chiamarsi Swami Chandraputra. Era profondamente versato nelle dottrine occulte e parve vivamente e profondamente commosso dalla somiglianza che esisteva fra i geologlifici sul rotolo e certi segni o simboli di un mondo antico e dimenticato, a proposito del quale confessava di possedere vaste e intuitive conoscenze. Entro il mese di giugno la fama della mummia e relative iscrizioni aveva oltrepassato di gran lunga i confini di Boston e il museo ricevette sollecitazioni e richieste di fotografie da occultisti e studiosi di arti arcane sparsi in tutto il mondo. La cosa non fece particolarmente piacere al nostro gruppo perché siamo un'istituzione scientifica e non abbiamo simpatia per i sognatori e i fantasticoni. Tuttavia rispondemmo a tutte le domande con decoro. Uno dei risultati di questa nuova rete di relazioni fu un articolo quanto mai erudito apparso su The Occult Review a firma del noto esoterico di New Orleans Etienne Laurent de Marigny nel quale si sosteneva la completa identità di alcuni bizzarri disegni geometrici tracciati sul cilindro iridescente e di numerosi geroglifici riprodotti nel rotolo con ideogrammi dal terribile significato che vari studiosi dell'occulto avevano copiato da monoliti primitivi o dai rituali segreti di sette misteriose e che erano sistematicamente esposti nell'infernale libro nero noto anche come culti innominabili di von Junst. De Marigny ricordava l'orribile morte di von Junst avvenuta nel 1840 un anno dopo la pubblicazione del suo terribile volume a Düsseldorf e commentava le sue agghiaccianti e in parte sospette fonti di informazione. Soprattutto metteva in rilievo l'enorme importanza dei racconti con cui von Junst traduceva buona parte degli ideogrammi mostruosi da lui riprodotti. Che questi racconti in cui un cilindro e un rotolo erano esplicitamente menzionati avessero una notevole affinità con gli oggetti custoditi nel museo era innegabile. Ma si trattava di storie così sensazionali e stravaganti a proposito di epoche infinitamente antiche e bizzarre anomalie del mondo primevo che si poteva più facilmente ammirarle che crederle. E il pubblico certamente le ammirò perché la stampa se ne impossessò completamente. Apparvero ovunque articoli illustrati che riferivano o sostenevano di riferire le leggende del libro nero. Spaziavano sull'orrida mummia paragonavano le decorazioni del cilindro e i geroglifici contenuti nel rotolo con le figure riprodotte da von Junst e indulgevano nelle più fantastiche irragionevoli e sensazionali ipotesi o teorie. I visitatori del museo triplicarono e il grande interesse del pubblico fu testimoniato dall'enorme quantità di posta che ricevemmo sull'argomento per lo più inane e superflua. A quanto pare la mummia e la sua origine costituivano per le persone dotate di immaginazione un argomento che in quei giorni del 1931 e 1932 rivaleggiava in importanza solo con la depressione. Per quanto mi riguarda l'effetto principale di questa mania fu di spingermi a leggere il terribile volume di von Junst nell'edizione Golden Goblin un'esperienza che mi lasciò incerto e nauseato ma lieto di non aver potuto esaminare il testo integrale nella sua completa infamia. Grazie. 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 Grazie.